A tre giorni dall'emergenza meteo la città, in questo lunedì più lunedì di tanti altri, si è risvegliata sotto una coltre di gelo che tuttavia non ha portato grandi criticità. Nonostante le insistenze di numerosi cittadini, il sindaco ha deciso di non emettere nessuna ordinanza di chiusura a scuole. Solo una direttiva ai dirigenti scolastici di avere una maggiore flessibilità oraria con chi arriva da fuori. Un problema termosifoni si è presentato alla scuola Don Milani che però ha avuto il tempo dimezzato, ovvero il mezz'orario, e da domani pare debba ritornare tutto alla normalità. Abbiamo fatto un giro in città accompagnati dal sindaco Giovanni Ruvolo e dal direttore dell'emergenza Giovanni Mantione che per poter così constatare la reale fattività dei lavori svolti con i mezzi spargisale partendo proprio da Santa Barbara. Sì, devo dire che il piano che avevamo predisposto con l'ufficio tecnico ha funzionato molto bene. Fin dai primi momenti le squadre sono state operative insieme a una rete di associazioni che ha coadiuvato l'attività del comune. In particolare voglio segnalare la presenza delle associazioni di volontariato di protezione civile, della società Caltambiente, le forze dell'ordine, in particolare i vigili del fuoco, la polizia stradale, i carabinieri, che sono stati impegnati insieme a noi a gestire l'emergenza. Fin dalle prime ore abbiamo cercato di garantire la viabilità negli assi principali e poi piano piano abbiamo garantito la viabilità nelle vie di maggiore percorrenza come via delle Calcare, per esempio via della Regione e già nella giornata di giorno 6 la viabilità era praticamente garantita nella maggior parte della città. Lei oggi ha scelto di non chiudere le scuole, un attimo di critica, però una scelta che è rimasta forte, perché? Ma perché non ci sono le condizioni, la viabilità è perfettamente garantita, in questo momento stiamo facendo un'ulteriore perlustrazione, i punti critici sono veramente pochissimi. La protezione civile per i prossimi giorni cosa dice? Noi a oggi non abbiamo ricevuto ulteriori informazioni, aspetto il bollettino dalle ore 16, ma non si prevede nessun peggioramento, anzi le previsioni dicono che ci dovrebbe essere un miglioramento, però aspettiamo il bollettino che di solito viene emanato intorno alle 16. Restano ancora alcune zone abbastanza critiche nella percorribilità, sono quelle alte della città, la via Scovazzo di congiunzione tra Sant'Anna e via Santo Spirito, e poi ancora Poggio Sant'Elia, la zona alle spalle dell'ospedale, dalla quale è ancora difficile scendere.